Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura un incidente stradale, ancora uno schianto lungo la strada regionale 71. C'è anche un ferito grave. Ancora un grave incidente lungo la strada regionale 71 nel tratto che porta in Casentino. Due le auto coinvolte, quattro invece i feriti. E' successo questa mattina attorno alle 7.40 nei pressi di Castelnuovo di Subbiano. Un violento impatto tra un furgone ed un'auto. Una delle vetture è rimasta nel mezzo della carreggiata a scorrimento veloce, mentre l'altra è finita fuoristrada, si è capottata andando a finire oltre il guardrail. Il conducente è stato estratto dalle lamiere e dai vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha regolato ed interrotto la circolazione, inevitabili disagi sulla trafficata arteria. Feriti una donna di 59 anni e due uomini di 41 e 25, tutti portati al San Donato in codice giallo, mentre un uomo di 54 anni ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasferito in codice rosso al policlinico alle scotte di Siena. L'incidente è avvenuto nel solito tratto in cui negli ultimi mesi hanno perso la vita tre persone, la giovane mamma, Linda Cecconi, e i due coniugi, Santino Bonini e Nadia Pallini. È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 45 anni per stalking. I militari hanno eseguito il provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Arezzo lo scorso 28 febbraio. L'uomo da qualche giorno risultava irreperibile sia sul posto di lavoro che al domicilio, ma i carabinieri lo hanno rintracciato alla guida della sua auto in via Legiotto. Le indagini erano scattate a seguito della denuncia di una donna ex della 45 anni che al termine della relazione sarebbe diventato oggetto di persecuzioni da parte dell'uomo. I carabinieri hanno così ricostruito appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, pedinamenti e danneggiamenti ai veicoli arrivati sino ad un capanno agricolo di proprietà della donna dato alle fiamme. L'uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. E passiamo adesso alla cronaca giudiziaria. Gli arresti domiciliari a questa mattina la prima udienza del processo che vede sul banco degli imputati il 47enne che lo scorso ottobre uccise la madre. E riparliamo dal primo di aprile. Il dibattimento e la discussione. Slitta tutto al prossimo primo aprile. Così si è conclusa la prima udienza del processo in corte d'assise che vede sul banco degli imputati Manuele Andreini, l'uomo che uccise la madre soffocandola con un cuscino. Il procedimento potrebbe però concludersi velocemente. Manuele Andreini, presente in aula questa mattina, è stato infatti giudicato, incapace di intendere volere al momento del fatto e per questo la sentenza non potrebbe essere di condanna. Già lo scorso 22 dicembre, al 47enne era stato riconosciuto un vizio totale di mente. Manuele Andreini era stato così scarcerato e trasferito in una REMS, una struttura residenziale e psichiatrica di secondo livello, dove si trova in regime di libertà vigilata e dove sta ricevendo le cure di cui necessita. La corte, preseduta dal giudice Filippo Ruggero, dovrà adesso stabilire cosa fare per il suo bene e per il bene e la sicurezza della comunità. Le sorelle del 47enne intanto si sono costituite parte civile nel processo. Senza nessuna voglia di avere un risarcimento di danni, solo per un segno di rispetto della mamma. Non certo per questioni economiche, perché poi l'esito è segnato, però era un segnale da dare per il rispetto della mamma, dopodiché non c'è nessuna volontà di andare a via. L'omicidio si consumò nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2022. La madre era all'istesa nel letto quando il figlio si avvicinò per poi stringere il cuscino al viso, sino a quando non smise di respirare. Poi chiamò a lui stesso i carabinieri, venite, ho ucciso mia mamma, disse per telefono. Il successivo accertamento psichiatrico aveva fatto emergere un disturbo grave, una forma di schizofrenia degenerata nel delirio di quella drammatica notte. L'asla toscana sud-est è stata condannata a risarcire con 390.000 euro la famiglia di una 14enne, morto mentre stava andando a scuola a Castiglion Fiorentino. I fatti risalgono alla novembre 2014. Il ragazzino che abitava a Camucia ebbe un malore improvviso e cadde a terra. Fu un'amica a chiamare i soccorsi ma per lui non ci fu nulla da fare. Secondo il giudice civile del Tribunale di Arezzo, poteva invece essere salvato l'emoragia per dissecazione della orta, però gli fu fatale. Ci spostiamo adesso a Cortona, presso il comando Compagnia Carabinieri. Questa mattina il presidente del gruppo storico della città di Cortona, Riccardo Tacconi, come vediamo in questo video, assieme al responsabile degli sbandieratori, Giacomo Petrucci, hanno donato il loro drappo storico, raffigurante il leone di San Marco al comandante della Compagnia Antonio De Santis. L'importante significato, valore simbolico e storico, il vestillo, che prima della canonizzazione di Santa Margherita era il santo patrono della città e tuttora il simbolo del comune di Cortona. Il trappo è stato essato su di un'asta rivestita in velluto risalente alla fine dell'Ottocento. Cambiamo argomento e torniamo in città. Come ogni primo fine settimana del mese è tornata la Fiera Antiquaria. Splende il sole sulla Fiera Antiquaria di marzo, banchi presenti e visitatori pure. Gli oggetti in mostra sono sempre bellissimi e originali. In questo fine settimana torna anche con nuove location la sezione vintage nel chiostro della biblioteca e nel giardino pensile della provincia. Circa una trentina di selezionati espositori di abbigliamento e accessori d'epoca provenienti da tutta Italia. Cerchiamo noi espositori di avere la qualità, perché se no avremmo tanti falsi e poche cose veramente vintage. Però chiaramente il vintage è molto caro e non è facile poterlo trovare. Quindi ci sono cose più o meno vecchie, più o meno vintage. E si raccolgono fra noi oppure andando all'estero, che allora lì ancora si trovano i grandi mercatini delle Pulci o altri mercatini. E per il weekend della Fiera ingresso gratuito anche alla Casa Museo di Ivan Bruschi. Sarà possibile visitare la mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Alinari, la sottilità dell'area Arezzo e il suo territorio. Negli archivi Alinari, il territorio aretino a cavallo tra 800 e 900, mostra che, visto il suo successo, sarà prolungata fino a domenica 4 giugno. E ancora la mostra dedicata alle banconote della Shoah, storie di denaro nei campi di concentramento. Inoltre, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, il prossimo 8 marzo la Fondazione Ivan Bruschi offrirà a tutte le signore l'opportunità di visitare la Casa Museo ad un prezzo ridotto. Taglio del nastro questa mattina per la 39esima edizione di Expo Casa 2023. Addirittura abbiamo aziende che sono 39 anni che vengono con noi, aziende che dicono che abbiamo aperto l'attività con Expo Casa. 39esima edizione di Expo Casa ad Umbria Fiere, nel comune di Bastia Umbra, ma questo è un punto di riferimento davvero per tutta la regione, le migliori eccellenze del settore casa. Una casa che si sta adeguando agli stili di vita che ormai sono cambiati. Dopo il lockdown è cambiato il modo di vivere la casa. Se sta più a casa, se legge più il giornale, se vede più la televisione, se qualcuno ha comprato quelle macchinette anche per giocare tipo flipper, allora gli abbiamo dato l'opportunità anche di queste cose. Presente al taglio del nastro anche la presidente della regione Umbria che ha sottolineato nel suo intervento anche l'importanza di avere ad Expo Casa per la prima volta anche gli ordini professionali, ingegneri e architetti. Sappiamo tutti quanto è importante, specialmente in una terra come la nostra, l'Umbria, che fa della bellezza un suo marchio di identità. avere la possibilità di professionisti che sanno coniugare il mondo esterno, quindi il nostro bell'ambiente, con la possibilità di realizzare un luogo di vita che sia funzionale e bello al tempo stesso. Confrontarci direttamente col pubblico che è l'utente finale del nostro lavoro è un momento indispensabile perché l'architettura è un valore sociale. Noi non siamo qui per rivendicare come corporativamente il nostro interesse professionale, ma l'architettura è un bene sociale. Nei paesi dove c'è già una legge sull'architettura questo è il primo articolo. Quali sono le abitudini principalmente cambiate e come vi siete adeguati anche nel rispondere magari alle esigenze? Allora il cambiamento è nato dal fatto che oggi anche il lavoro non è solo diciamo presso la sede dove uno va a lavorare, però magari può viverla anche nella propria abitazione, però magari uno stando a casa decide di poter avere una qualità superiore cercando però di stare attenti a tutti quelli che sono gli spazi che spesse volte sono occupati dalla moglie, dai figli, dalle problematiche, dai rumori che noi adesso in una certa maniera cercheremo di adoperarci per fare in modo di far capire che si può adoperarci anche là per migliorare questa qualità della vita. Presente anche la strada della ceramica in Umbria e l'associazione italiana città della ceramica con un'esposizione senza precedenti di oltre 100 opere in ceramica artistica tradizionale che danno risalto ad un settore che rappresenta una risorsa strategica per l'Umbria. È una realtà straordinaria che nasce dalla volontà congiunta dei quattro sindaci delle città di antica tradizione ceramica, De Ruta, Gubbio, Gualdotadino e Orvieto ai quali l'anno scorso si sono aggiunti i comuni di Umbertide e di Città di Castello che nel frattempo sono state riconosciute come città di antica tradizione ceramica. Una sinergia che guarda lontano al di là dei campanilismi e degli orientamenti politici per promuovere la ceramica, per tutelare questo straordinario patrimonio che è identitario dell'Umbria e che ci caratterizza in tutto il mondo. Vogliamo cogliere questa grandissima opportunità che ci è stata proposta dalla regione dell'Umbria in modo particolare da Epta Confo Commercio per promuovere le nostre eccellenze, le nostre identità, le caratteristiche che distinguono i nostri territori in un unico grande contenitore che è la strada della ceramica in Umbria. Expo Casa 2023 andrà avanti fino al 12 di marzo. Passiamo alla politica. Gianfranco Vecchia è il nuovo segretario provinciale della Lega. La nomine è arrivata al termine del congresso che si è svolto oggi all'interno dello Sport College. All'appuntamento hanno preso parte i militanti della sezione locale che hanno indicato appunto il nome di Vecchia come nuova guida del coordinamento provinciale. Il congresso è stato presieduto da Tiziana Nisini, deputata del Partito del Carroccio ed ex assessora del Comune di Arezzo. Puntuali sono arrivati i complimenti del leader Matteo Salvini. Spero di tornare presso ad Arezzo, ha detto, per parlare di future infrastrutture per rafforzare il radicamento della nostra Lega. Ci spostiamo adesso ad Antria, dove nel parchino è arrivata la casetta dei libri. Vediamo il servizio. Una casetta dei libri, anche ad Arezzo, è stata inaugurata nel parco di Antria a Frazione del Comune Capoluogo, un luogo dove lasciare libri che sono già stati letti e che possono essere donati ad altri bambini. La società deve investire assolutamente nei bambini e nei bambini che sono il futuro di domani e quindi la scuola assolutamente ha proprio investito anche perché l'importanza di una cosa così particolare che nel nostro territorio penso che sia, almeno nel nostro territorio arettino, l'unica esperienza della quale siamo a conoscenza. E soprattutto la volontà e la forza che hanno avuto le maestre nel portare a compimento con determinazione questo progetto è stato, penso, da encomiabile. Una iniziativa resa possibile grazie al fatto che la scuola Doremi di Antria ha aderito ad un progetto del FAI per le scuole dal titolo Paesaggi in Movimento. Il progetto ha avuto poi l'appoggio della Fondazione Arezzo Comunità. Il gruppo femminile della Croce Bianca Aretina assieme all'Inner Will Arezzo hanno organizzato una raccolta fondi per donare alla Croce Bianca di Arezzo uno scendiscale da dare in uso all'ambulanza impegnata nel servizio dell'emergenza fondamentale dunque per l'evacuazione in posizione seduta. E adesso passiamo alla pagina della cultura. Domani il vernissage della mostra fotografica Occhio di Basilisco di Francesco Maria Rossi. Dopo il Covid, il Covid è questo mostro, questo Basilisco, Basileum, insomma questo elemento che ci ha portato a una disperazione straordinaria rinasciamo e anche a livello iconico di immagini dobbiamo trovare immagini nuove immagini sintetiche, immagini astratte, concettuali. L'Occhio del Basilisco è il titolo dell'evento fotografico di Francesco Maria Rossi ospitato al Circolo Aurora di Arezzo in parallelo con la rassegna musicale di Voci di Donne. Sono fotografie quadrate, stampate su carte, fatte col mio telefonino, quindi in modo molto semplice, però diciamo che hanno uno sguardo nuovo sull'immagine. Dopo il Covid, dopo questo dramma, anche l'aspetto iconico deve essere affrontato nuovamente. Quindi sono immagini astratte, immagini concettuali che citano se stesse, immagini legate a un concetto nuovo di fotografia, come se guardassi le cose per la prima e l'ultima volta. 25, gli scatti in esposizione. Io mi sono rifatto alcuni grandi fotografi, come Ghirri, come Fontana, come Mimmo Iodice, anche questo concetto di sospensione del tempo, di astrazione, questo è un mosso, vedete il Duomo di Arezzo, questa è una foto che si rifà al doganiere, il pittore naif ottocentesco, questo è un vegetale che è sopravvissuto nel cemento di una zona industriale. Insomma, diciamo che sono fotografie che vogliono dare un nuovo sguardo alla realtà che tutti i giorni ci troviamo intorno, ma che spesso non percepiamo nel modo giusto, nel modo più profondo. Passiamo alla pagina dello sport, sarà il città di Castello dell'ex patrona Maranto Paolo Mancini, l'avversario che domani alle 14.30 al comunale affronterà l'Arezzo nella 26esima giornata del campionato di Serie D nel girone e sentiamo le parole di Mr. Indiani. Siamo a nove giornate dalla fine della situazione di Castello di Cammini, sono insidiosissime, pericolosissime e fondamentali tutti. È proprio lì appunto, viene da un periodo brutto e bisogna diffidare più che mai, bisogna diffidare più che mai perché sono proprio quelle partite trappola. bisogna pensare che hanno una sua qualità come tutte, anche se mancano alcuni elementi importanti, però che vuol dire? In sedici giocheranno lo stesso e ci metteranno tutto quello e altro. Noi dobbiamo fare lo stesso. È giusta concentrazione di più, non è meno giusta, è esagerata concentrazione. perché è chiaro che abbiamo lavorato tanto per arrivare qui e non dobbiamo vanificare, non dobbiamo cercare di vanificare perché poi il calcio non si sa mai, però noi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, sotto tutti i punti di vista. Concentrazione, qualità tecnica, con istia, ecc. E la terza per rientrare bisognerebbe che noi lagianese crollassimo entrambe, insomma, mi sembra difficile. 9 giornate alla fine, 10 punti da noi, 8 dalla pianese, sono tanti. Io credo che la lotta sia a 2. Orgoglio Amaranto celebra la festa della donna con un evento che si terrà mercoledì 8 marzo all'Urban di Via Pietri. Dalle 19, music, atmosfera, Amaranto e un aperitivo per trascorrere assieme la serata. Ospiti numeri 8 che indossano la maglia Amaranto, Marianna D'Alessandro, calciatrice della Rezzo Calcio Femminile, il capitano Andrea Settembrini. E domani le ragazze di Mister Testini saranno invece impegnate in trasferta Cesena al centro sportivo Rognoni contro le padrone di casa bianconere nella 19esima giornata del campionato di Serie B. Una trasferta particolare per l'Amaranto che sarà accompagnata da alcuni tifosi. Da Castiglione e Fibocchi domani mattina partirà infatti un pullman con oltre 30 persone in direzione Cesena per sostenere le ragazze Amaranto. L'appuntamento è per le 15. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. a